signore e signori benvenuti a questo nuovo raccoglitore randagio parleremo in questo spazio dei più grandi cantautori chi è stato in grado di mobilitare intere generazioni di far battere forte il cuore e di spezzarlo qualche volta sto parlando di lui sto parlando della vera anima rock della nostra nazione signore e signori Giovanni Scialpi o Scialpai come desidera essere chiamato dal 2012 nasce in una ruvida mattina del 14 maggio 1962 a Parma debutta nel mondo della musica a solo 21 anni con la canzone che sentite in sottofondo con la quale si giudica il disco verde del festival bar poco dopo vince il telegatto come rivelazione dell'anno molti di voi staranno pensando ma chi è sto sfigato ma non dovete farvi trarre in inganno dai jeans ascellari e dalle spalline anni 80 Scialpi era un idolo era quello che fedez e adesso solo senza tatuaggi e senza la ferragni nel 1984 pubblica cigarettes and coffee un brano scritto a 14 anni cigarettes and coffee e niente più e tutto quel che resta sopra il tavolo di un bar tre le sue partecipazioni al festival di Sanremo quattro al festival bar che vince nel 1988 con la canzone pregherei teatro partecipazioni televisive concerti un artista completo che vogliamo ricordare così marco masini raff paolo vallesi e per lui non c'è più spazio ma questa è un'altra storia